Ti presentiamo nuova Peugeot 408. Nuova 408 capovolge lo status quo con un design radicale e un'originalità decisa. Con l'anima di Peugeot, gli occhi, gli artigli e le orecchie di un leone. Qui lo stile non comunica solo, ma ruggisce. L'efficienza e lo stile aerodinamico sono presenti in ogni dettaglio. A volte le cose migliori sono quelle inaspettate. Seducente da ogni punto di vista. Questa è nuova Peugeot 408.